Sono ore cruciali per il procuratore della Repubblica di Arezzo, Roberto Rossi. Domani infatti il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura deciderà se confermare il suo incarico per i prossimi quattro anni o accogliere la relazione negativa nei suoi confronti della quinta commissione, seguendo così di fatto la linea di Pier Camillo da Vigo. La posizione di dottor Rossi mi sembra che sia stata lesa da una strumentalizzazione di natura diversa e che non ha nulla a che fare con la sua professionalità, con la sua carriera. È una persona che fa della giustizia retina, produce una valutazione molto equilibrata in cui si può ragionare, certamente ognuno nel suo ruolo, ognuno con i suoi doveri, ma sempre con molta attenzione e con molto equilibrio. La motivazione sarebbe che Rossi sia venuto meno ad acquisiti di indipendenza e di immagine per i propri condizionamenti in merito alle infinite vicende su Banca Etruria, nel periodo in cui era ancora consulente del Dipartimento Affari Legislativi di Palazzo Chigi nei governi Letta e Renzi. Non favorevole è anche l'orientamento del ministro Alfonso Buonafede, un caso dunque oltre che tecnico, anche politico. Il procuratore Roberto Rossi ha già presentato una memoria al Consiglio Superiore della Magistratura. C'è una forte finalità di nuocere la sua persona e questo non solo è una lesione al dottor Rossi nella sua funzione di magistrato, ma secondo me proprio alla persona, proprio tesa a creare un danno che a noi sembra fuori della giustizia che noi cerchiamo di tutelare ogni giorno. Io credo che si possa anche pensare a qualche nome e cognome, ma mi sembra che non sia il momento questa parte nostra di poterlo fare. Infine, questa mattina, il personale amministrativo della Procura della Repubblica di Arezzo si è riunito in un'assemblea spontanea per esprimere la propria solidarietà nei confronti del procuratore capo. Il personale ha inoltre ricordato che l'ufficio ha funzionato con costante armonia, riuscendo ad affrontare, nonostante le carenze di organico, tutte le incombenze, fornendo un puntuale servizio alla cittadinanza, così come certificato dalla recente ispezione ministeriale. Tutto l'ufficio auspica che il dottor Rossi dunque possa continuare anche in futuro questo ruolo.